Ed è il passo in più che l'arte, cioè non si può non avere solidarietà all'interno della comunità europea e per fare questo non si possono appunto abbandonare i paesi come la Grecia ma insomma troppo tempo è passato per la discussione sui problemi della Grecia, del Portogallo e via dicendo e bisogna fare il passo in più, bisogna fare maggior unità politica e naturalmente politiche di sviluppo Questo è il punto, nel frattempo avete visto apparire sul vostro schermo una tabella e la tabella che fa un raffronto tra i prezzi che avevamo con la lira, i tre filetti qui già e quelli che invece sono arrivati con l'euro, c'è anche l'olio Andrea, anche per quanto riguarda l'Italia come vede Questi erano i prezzi 10 anni fa, esatto, sì dal 2001 Dovremmo comunque aggiungerli al 2011 Ecco ci sono, ci sono le tre tabelle Ci sono, ci sono Dal 2001 erano 3.490 lire per quanto riguarda il pane al chilo Siamo passati con l'euro a 1,80 euro, 2011 2,94 euro La variazione è del 63%, il pane, la base, l'essenza Il tasso di inflazione, anche qui aiutami, il tasso di inflazione formale contestato è del 21,7% La differenza tra l'inflazione reale e la percentuale Insomma, l'inflazione, ma quello serve poi per le retribuzioni, serve per il potere d'acquisto delle famiglie a reddito fisso Quindi quelle sono le percentuali micidiali d'aumento Insomma, quando la pizza margherita è aumentata del 145% Ed eccolo qui il tintinio della nuova moneta che arriva, che ci dice che ci siamo Ci siamo anche noi nella comunità europea Abbiamo questa quantità mutica C'era anche un po' di pane, però A molti di quei consumatori si vedeva anche un po' di pane Che non se n'è andato Perché effettivamente, torniamo a dirci questa cosa Il raffronto dei prezzi, parla chiaro Cioè la sensazione, non è solo una sensazione che si stia pagando il doppio Sapete quant'era la benzina? Sotto un'era Sapete adesso quant'era la benzina? Adesso non è Un'era si stava E' notizia di stamattina Però Trefiletti è tutta colpa dell'euro? C'è stata la crisi? No, appunto E' colpa degli strumenti Della mancanza di verifiche, della mancanza di controlli Del fatto di non aver fatto una politica economica di un certo tipo Insomma, l'euro è uno strumento tecnico E non c'è assolutamente nulla con la speculazione E' stata utilizzata la difficoltà di comprensione del cambio E' stato utilizzato tutto Ma in buona sostanza non ci sono fatte le cose che invece bisognava fare Ha ragione Pesone quando dice Meno male che c'è l'euro rispetto ai mutui Rispetto all'acquisto delle materie prime E via dicendo, meno male che c'è Ma sono i comportamenti Ma è lo stesso Che noi consumatori non ci siamo opposti a queste cose Perché i prezzi sono troppo alti e non li compri le cose Però si trovi da tutte le parti I prezzi uguali e raddoppiati devi pur mangiare E quindi sei stato costretto a andare a spendere Senza mettere un muro di volcottaggio E dire no, questo no, questo no perché costa troppo Giuseppe, sentiamo Si è stato chiarissimo Giuseppe Noi non solo denunciamo queste cose Ma facciamo anche, qualcuno se lo ricorderà Gli scioperi della spesa A settembre davanti a Montecitorio Ma noi non abbiamo strumenti di intervento Noi possiamo solo denunciare e dire le cose che non vanno bene Altri dovevano fare Partiti politici, le istituzioni, il governo E noi abbiamo denunciato E questo penso che se lo ricordino un po' tutti Però noi non vi abbiamo seguiti come dice Giuseppe Gli italiani però non si sono ribellati quasi in fondo Perché? Perché ci siamo fidati Il mercato è libero, non ha bisogno di controlli Non si può rendere? Secondo me sì Ci furono responsabilità che a nostro avviso devono essere sottolineate Facciamo bene a ricordarlo Facciamo bene a ricordarlo perché lo ripeto Queste responsabilità sono tutte ricadute poi sui centri che ha reddito fisso e sezzalmente Sono quelli che pagano la crisi Sì, no, Rosario Trefine E parlare delle diverse politiche economiche messe in campo nei vari stati Cioè, mentre Francia e Germania fanno delle politiche certamente di taglio per risanare i conti Ma nello stesso tempo quelle politiche di taglio e di superamento di sprechi e via dicendo Comportano anche investimenti in innovazione tecnologica, sviluppo e via dicendo Allora è chiaro ed evidente che lì si fa un risparmio del, diciamo così, del debito, delle spese Ma nello stesso tempo si rilancia l'economia Ecco perché la Germania risponde con un più 4 La Francia risponde anch'essa in positivo Mentre noi facciamo delle politiche economiche Sono di tagli, tagli che sono stati definiti anche tagli lineari E in buona sostanza non si fa anche sviluppo Perché gli sprechi devono essere eliminati Ora, ovviamente Ma questo bisogna fare sviluppo Ma questo vuol dire che tagli e sviluppo possono convivere, possono coesistere Devono, devono Siccome È l'obbligo Se non si cresce Ma assolutamente perché poi allora si entra in un circolo vizioso Per cui si taglia, non c'è sviluppo Si deve ritagliare Pronto? Da dove chiama? Io chiamo da Savona Ah, buongiorno signora Mi chiamo Vanda Vanda, buongiorno, ci dica Buongiorno Senta, io sono felicissima per l'ingresso dell'Italia nell'euro Questa è la prima cosa Seconda cosa Vi racconto un fatto brevemente Nel 2001 con la lira Comprai un paio di scarpe da pioggia 47.000 lire L'anno dopo con la venta dell'euro Un signor commerciante aveva tolto il biglietto Al posto della L aveva messo la L 47 euro Ecco, questo la dice lunga Chi sono i principali colpevoli di questa situazione? Verrebbe da dire I commercianti? Senza dubbio Senza dubbio Ma davvero i commercianti? No, allora Troppo facile, no? Che dite? Guardate, una cosa che ancora non abbiamo detto Ma io ricordo molto bene In quegli anni Immediatamente dopo l'anno Ci fu una bolla speculativa molto forte Sull'edilizia, sulle case Tant'è vero Anche qui, aiutami Il prezzo delle case esplose Guardate che ci fu una domanda Molto forte Da parte di certi centri sociali Nell'acquisto degli appartamenti Oltre il cosiddetto scudo piscale Perché c'è uno precedente Che ritornarono dei capitali in Italia Però molti strati sociali Comprarono molte case Le assicuro che non furono né pensionati Né lavoratori Che fecero questa operazione Quindi diciamo che in quel periodo Adesso ce la passano un po' male Ecco quello volevo dire Perché chiudono le attività Chiudono veramente le attività commerciali Chiudono Attualmente Attualmente L'attività commerciale È veramente messa male Chiudono molti negozi Perché la contrazione dei consumi Le famiglie stanno peggio Perché le contrazioni dei consumi Portano Non solo a una caduta dell'economia Ma portano anche A un malessere delle famiglie E in più Malessere nei commercianti Però nel 2002 Nel 2003 Ci furono strati sociali Tra cui i commercianti Che ci guadagnarono Perché molti da casa Ci dicono Che non furono solo i commercianti A fare questa speculazione Ma fu lo Stato Perché il suo L'Enalotto E il Grattavici Banalmente Raddoppiarono Allora perché anche lo Stato Fece raddoppiare le cose Certo Quindi i commercianti Hanno seguito quello che lo Stato faceva Ci furono le prime esemplificazioni Che noi denunciamo Alcune tariffe Che erano gestite Dallo Stato Le cose I giochi I musei E altre cose ancora Le visure Alle camere di commercio Insomma Noi denunciamo A quel tempo Che proprio Gli esempi negativi Venivano anche da chi Doveva dare esempio positivo Ha perfettamente ragione A ricordare queste cose Che mi vuole Allora Diciamo subito Che una cosa può essere anche divertente Folcloristico Che ha Però ci sono due rischi Primo di continuare a ragionare Con la lira E non con l'euro E questo È fonte di raggiro Nei cittadini Bisogna Dimenticarsi la lira Perché altrimenti Si corrono Rischi di pagare di più E quindi Capisco la cosa È simpatica Lo ripeto Eccetera Però Prima cosa Cambiare mentalità Non parlare più di lira Due Due La questione è che Attenti Ci sono delle scadenze Non vorremmo che Quei soldini Che lei prima diceva Ebbè poi A un certo punto Decadono Il 28 febbraio 2019 Diventano parta strada Ecco Molti soldini Scompaiono Allora io consiglio I cittadini Tenetevi Mille lire Per tenetela Come ricordo Però Attenti Se avete tanti soldini Ebbè poi Spariscono E quindi Sarebbe preferibile Fare l'operazione Di cambio Ma